Gian Pietro, oggi lanciate un grido d'allarme sulla futura destinazione di questa che è oggi un'area destinata ad orto urbano a Pescara in via Santina Campana. Perché? Questa è un'area che fino al 2017-2018 era considerata molto legadata, infatti gli stessi residenti ne denunciavano spesso addirittura la presenza di spacciatori. Con la scelta di farci qui degli orti urbani e un parco attrezzato, quest'area è stata fortemente rigenerata. Oggi, anzi ieri, abbiamo scoperto in commissione che proprio questo sito, che è un'area verde, dovrà essere scelta dall'Aggiunta Masci come uno dei luoghi dove sorgeranno nuovi asili di nido. Ora, noi siamo stati i primi a chiedere che l'Aggiunta faccia nuovi asili di nido perché abbiamo contestato le pesanti gestioni delle liste d'attesa dell'asili di nido a Pescara che hanno cacciato fuori 188 bambini per la prima volta dopo tanti anni. Siamo disponibili ad aiutare l'Aggiunta a trovare siti che non siano aree verdi attrezzate e che vorrebbe dire fare un passo indietro perché ci vogliono gli asili di nido, ma scegliere proprio un'area che è attrezzata, che è vissuta dai residenti per distruggere una bella esperienza di verde attrezzato vuol dire andare anche contro quello che il PNR richiede. E pensare che debba essere sottratta al quartiere per farci un'altra struttura quando ci sono tantissime alternative a partire dalle scuole perché siamo sicuri che se chiedessimo alle dirigenti scolastiche dei tre comprensivi del quartiere Colli e Ospedale di individuare un'area adiacente alle loro scuole per realizzare gli asili di nido sarebbero credo le più contente perché si realizzerebbe quella integrazione fra gli asili di nido e le scuole dell'infanzia che è richiesta dal Ministero stesso di Istruzione. Quindi davvero chiediamo all'Aggiunta di fare un passo indietro, anzi di fare un passo avanti verso la partecipazione e ci andiamo da subito a disposizione per trovare insieme un nuovo sito per i asili di nido.